Cortina 2026, il Veneto marcia compatto per portare a casa i giochi olimpici invernali. La squadra c'è e anche l'altopiano vuole fare la propria parte. Eh sì, perché tra i sette comuni non nascondono l'amarezza per essere stati esclusi, ma rilanciano. L'Odegar sarà usato per degli allenamenti. Piccola, magra, consolazione. Bisogna avere e ottenere di più. Dall'altopiano si dicono convinti che si sia chiuso solo il primo round. Purtroppo registriamo questo terreno poco positivo con ramarico e forte delusione per il fatto che l'altopiano sembrerebbe in prima battuta escluso da qualsiasi possibilità di esprimersi. Io voglio ritenere questo solo un primo atto, un primo round di questa partita. Tifando ancora per il vento quale assegnatario di queste Olimpiadi, mi aspetto invece un secondo round che lo decideremo insieme alla Giunta regionale con la quale siamo in stretto contatto in questi ultimi giorni visto il terreno caldo, Munari e i colleghi sindaci sono convinti che l'altopiano abbia tutte le caratteristiche per ospitare delle gare ufficiali e rilanciano così. Due stadie di ghiaccio per cui potremo ospitare hockey, curling e short track e sono vicini 8 chilometri, piuttosto che lo sci da fondo di Campomulo e di Piani Marcesina, piuttosto che il biatron a Campolongo di Rozzo e Roana. Io rilancio ufficialmente a nome di tutti i sindaci dell'altopiano questa candidatura.